Stanchi della nebbia? Beh, tranquilli, stiamo per cadere dalla padella alla brace, dallo smog, ai temporali che stanno per trasformare le giornate da fresche e grigie a gelide e bagnate. I meteorologi giurano che l'anticiclone che tiene alla larga l'autunno ha le ore contate. Domani maltempo su tutto il Veneto, con rovesci intensi nel Vicentino, in pianura e nella zona pedemontana. Il Centro funzionale decentrato della protezione civile del Veneto ha diramato un avviso per possibili criticità idrogeologiche come frane e disagi alla rete fognaria per il bacino del Bacchiglione.